Noi come abbiamo detto abbiamo partecipato sin dall'inizio, in due anni è stato fatto quello che noi abbiamo potuto leggere, Olbia ha una sua organizzazione importante per quanto riguarda la promozione turistica, io sono sempre stato per il sistema, quando si sta all'interno del sistema ci sono delle iniziative, ma soprattutto ci sono delle regole che devono prevedere il fatto di stare all'interno del sistema, non fuori del sistema.